La Russia e l'Europa dovrebbero difendere insieme i loro interessi legali sull'accordo sul nucleare iraniano dopo l'uscita degli Stati Uniti ed è necessario prevenire qualsiasi nuova minaccia al regime di non proliferazione perché la situazione è critica, ha ripetuto il ministro Lavrov. Gli ha fatto eco zarif per cui Washington ha profondamente modificato gli equilibri degli impegni. Sfortunatamente ancora una volta l'America cerca di rimettere in discussione gli accordi internazionali così come è accaduto circa il problema di Gerusalemme e in tutta una serie di altri eventi. L'amministrazione degli Stati Uniti aveva comunicato che oltre al programma nucleare di Teheran erano infastiditi dal programma di missili balistici e dal sostegno iraniano ai movimenti sciiti e alle altre forze alleate in Libano, Yemen, Iraq, Siria e altri paesi.